Qui vi presentiamo le 5 migliori regali per gli appassionati di jogging iniziamo. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Brochi, pantaloni da jogging da uomo. Estremamente comodi, questi pantaloni hanno un peso da attrezzo, con una vestibilità slim. Includono anche una cerniera alla caviglia e anche una doppia cintura cucita da 3 pollici. Il loro tessuto è composto dal 65% di cotone e anche dal 35% di poliestere. Possono essere comodamente puliti nella tre. Passando al numero 4. Team Roaming Correre per superarsi. Questa pubblicazione non è stata scritta da un corridore. O meglio, lo scrittore non ha vinto nessun tipo di trofeo. Chi l'ha composto va a superare se stesso. Se stai pensando di aver ottenuto la pubblicazione sbagliata poiché stavi cercando di trovare una guida in esecuzione, non stressarti. Leggerai il testo ideale. In queste pagine scoprirai molto di più di una guida te per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Alpidex Berretto Corsa Calcio Sportivo Bici Cappello Running Donna Uomo School Cup. È un berretto ideale per tenersi al caldo nella stagione invernale per la pratica delle attività sportive e anche del tempo libero. Ha uno strato interno ruvido e un lato alto che copre le orecchie senza che le articolazioni si schiacciano e le rovinino. La sua superficie liscia ne consente inoltre l'utilizzo anche sotto il casco di sicurezza. Viene proposto in una dimensione oltre che un isex. In prodotto soft touch 92% poliestere, 8% spandex. Si può anche lavare in lavatrice. Almostat è top of our list at number 2. Nike Park 18 Rheignacet. È un design da uomo che utilizza un'efficiente protezione resistente all'acqua. Il prodotto Nike Dry mantiene il calore all'interno durante le attività esterne, mantenendo il corpo asciutto in qualsiasi momento. La forma adattata al cappuccio e anche un orlo posteriore allungato garantiscono sicurezza in qualsiasi momento. Grazie alla cerniera frontale integrale, può essere indossato e tolto facilmente. E infine il numero 1 della nostra lista. Ultrasport. Questa t-shirt da running garantisce un confort particolarmente elevato grazie al materiale elasticizzato molto funzionale e ad asciugatura rapida. Presenta un foro per il pollice all'estremità delle maniche e stampe riflettenti sul davanti e sul retro, per essere ben visibili anche durante gli allenamenti serali e not per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.